Avanti con Aldo Rosselli e con l'attuale proprietà. Come i tifosi dell'Andria lo scopriranno a lunedì prossimo quando il nuovo anno si aprirà con una conferenza stampa. Verrà interrotto il silenzio imposto ai propri tesserati e soprattutto tornerà a parlare per l'occasione il presidente della Fidelis. Parlerà sicuramente di una trattativa, quella per la cessione delle quote a Fabio Baraldi, che è terminata questa mattina con la definitiva fumata nera. Fine di tutto, insomma, con uno scambio di comunicati tra le parti, dopo i continui confronti che hanno caratterizzato questa settimana, ha cominciato l'imprenditore carpigiano rivolgendosi alla piazza andriese. Per quanto fosse stato già nelle mie volontà essere il vostro presidente e darvi certezze sul futuro, mio malgrado, se non ho le idee chiare su alcuni punti, non posso essere incisivo. Come vorrei, nel progetto Fidelisandria servono tutte le valutazioni del caso. Sto lavorando ininterrottamente per chiudere la trattativa. Questa mattina poi è arrivata la replica dell'attuale società con tanto di precisazioni. Abbiamo rispettato tutte le formalità e gli obblighi previsti da una manifestazione di interesse all'acquisto di quote societarie. Anzi, la società ha dovuto suo malgrado indire un silenzio stampa a causa di un patto di riservatezza concordato tra le parti. Oltre che al fine di evitare potenziali disinformazioni e strumentalizzazioni, prendiamo atto che questo non è avvenuto da parte del signor Baraldi, ancor più se nella suddetta nota si fa riferimento a fondi inesistenti e a pretestuose considerazioni personali. Game over dunque. Cinque giorni persi, soprattutto sul fronte al mercato, la sessione invernale. Aprirà i battenti già lunedì prossimo. Dopo una fase di stand-by provocata proprio dalla trattativa per la cessione della società, è tornato ad occuparsene già oggi il direttore sportivo Mariano Fernandez, che aveva intavolato diverse trattative dal momento del suo arrivo ad Andria. Il mercato potrà fare realmente la differenza nella complicatissima missione salvezza della Fidelis. Servono con urgenza almeno un paio di attaccanti, un centrale difensivo e un terzino, qualcuno possibilmente a disposizione. Già per la prima del nuovo anno contro la Viterbese, la conferenza stampa del 2 gennaio servirà anche e soprattutto per fare chiarezza sul futuro societario della Fidelis. C'è la forza per garantire solidità al club, almeno sino al termine della stagione? Che mercato sarà quello dell'Andria? Potrebbe tornare d'attualità l'opzione che prevede l'accessione di una parte delle quote al gruppo americano della Seven Crockets? Interrogativi che troveranno risposta fra tre giorni.